Un cordiale saluto e benvenuti a Occhio ai giornali, il consueto appuntamento con l'informazione in diretta di Fano TV con la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno. Oggi è mercoledì 15 settembre 2021 e come sempre cominciamo con il santo di oggi. Oggi la chiesa dopo l'esaltazione della croce di ieri celebra e festeggia la Beata Vergine Maria Adolorata, anche se poi festeggiarla nel senso che ricordiamo Maria sotto la croce, sotto la croce di Gesù. Il sole è sorto alle 6.47, tramonterà le 19.19, andiamo a vedere il tempo. Dal sito della protezione civile delle Marche per questa mattina cielo parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio in particolare sui settori montani dove saranno previsti anche brevi temporali o locali rovesci. Per la giornata di domani ancora nel corso del pomeriggio probabili rovesci o temporali sparsi, cioè settori interni, in estensione verso la fascia costiera. E poi la giornata di venerdì 17 con temperature senza variazione di rilievo ma con precipitazioni rovesci o temporali sparsi, vedete che interesseranno anche la costa, in particolare quella conetana, instabilità localmente anche spiccate, perdureranno per tutto il fine settimana. Andiamo subito a vedere i giornali, cominciamo dal Chiellino di Pesero, la terza dose si fa negli ospedali, via la nuova fase che riguarderà inizialmente 40.000 fragili, somministrazioni dal 20 di settembre, poi a centropagina gli irriducibili delle scuole, un'educatrice senza Green Pass, via dall'asilo, arrivano i vigili. Ma questa mattina inizia la scuola per tanti studenti marchigiani, caos trasporti, caos per i bus della Tundo e molti alunni rischiano di restare a piedi. E poi ancora la pesarese ferita dal Somalo a Rimini mi teneva per il collo e colpiva. Poi l'altra notizia, sempre dalla prima, bimbo morto per uno tite, la procura sente Bassetti, ricorderete il bambino curato con l'omeopatia. Questa è la prima pagina del Carlino, dove sotto c'è anche la protesta di 30 residenti nella zona porto di Pesaro, che presentano un esposto nel mirino il gasolio dei generatori usati per le imbarcazioni, puzza e inquinamento. Poi il basket Petrovic lascia il Brasile, solo la VL. Il Corriere Adriatico ritorna a scuola per tutti, da oggi presenza piena in aula tra regole e rebus, teste per il servizio bus, scelte le classi sentinella, tensione all'asilo girotondo per una educatrice senza green pass. Il dirigente fa intervenire i vigili. Poi al circolo della stampa Colombo ha premiato la Segre. Trasporti scolastici, forfè della tondo, 17 comuni a rischio. Allora partiamo da qui proprio perché stamattina in molti si staranno preparando per uscire e portare appunto i figli all'asilo. C'è questo problema che è arrivato nei cellulari delle famiglie ieri intorno nel tardo pomeriggio e quindi il problema di chi deve portare a scuola i figli perché non c'è il servizio appunto dei pulmini. Andiamo a vedere quali sono i comuni che probabilmente avranno qualche problema questa mattina. Allora il servizio che non è garantito appunto dall'atundo è ad Ascoli, Sant'Elpidio a Mare, Camerata Picena, Loreto, Camerano, Falconara, Monte Marciano, Numana, Gabice, San Costanzo, Tavuglia, Monte Labate, Cartoceto, Coglio al Metauro, Monte Felcino, Mondavio, Sant'Ippolito. Poco fa, anzi ieri già il comune di Cartoceto informava che erano riusciti in qualche modo a trovare una soluzione quindi immagino, speriamo anche qualche altro comune, una soluzione alternativa poi comunque dovrebbe tornare nei prossimi giorni almeno così come fa sapere la società. L'atundo ha fatto sapere che dal 27 di settembre il servizio tornerà a posto ma intanto si annunciano giorni difficili, giorni da tregenda per i comuni e soprattutto per le famiglie coinvolte. Tutto questo perché? Perché l'atundo avrebbe dovuto coprire questi 33 comuni ma ha avuto una spravertenza con gli autisti per via degli stipendi non pagati, per questo diversi comuni a luglio hanno proceduto aggiudicando in autonomia il trasporto scolastico, solo 22 comuni della lista iniziale sono andati avanti aderendo al bando e cedendo il servizio di trasporto appunto all'atundo. Anche il Carlino, forfè, scuolabus, alunni a piedi, denunce, l'atundo gestisce trasporti per numerosi territori, molti dei quali si stanno organizzando in estremis per trovare soluzioni, la ditta accusata di interruzione di pubblico servizio, un buco in 17 comuni. Andiamo avanti con la rassegna, allora pagina 2 del Corriere Adriatico, si parla ancora di vaccinazioni, di terza dose, Salta Martini. L'assessore regionale dice ai fragili sì, ma anche per gli altri, scusate, ai fragili sì, ma per gli altri meglio rimanere prudenti. L'assessore dice ci sono valutazioni in questo momento differenti in corso e quindi approfondiremo. Intanto il Covid Hospital di Civitanova per ora non si riaprirà, avanti con i monoclonali. Dunque in questo momento non si ravvisa l'esigenza di aprire un reparto Covid a Civitanova oppure di aumentare i posti letto, ma abbiamo intenzione di impiegare gli anticorpi monoclonali nelle prime fasi della malattia e di rafforzare le cure domiciliari, inviando specialisti ospedalieri quali cardiologi, infettivologi, pneumologi a seconda delle esigenze per curare le persone a casa. La vicenda raccontata ai giornali questa mattina di questa donna educatrice di 40 anni, Emilia Zuccherini, che non avendo il Green Pass, non avendo fatto il tampone, chiede di poter andare comunque, di entrare a scuola nell'asilo nido girotondo di Vismara, siamo a Pesaro, chiaramente già da ieri tenuta un po' sotto controllo dalla polizia locale, lei si oppone al provvedimento e ha deciso di rimanere all'esterno di questo asilo in segno di protesta e chiede di poter esercitare il suo diritto al lavoro, adesso secondo lei violato. L'educatrice parla di abuso di potere da parte del dirigente scolastico Walter Chiani e racconta di non essere mai stata esclusa dal nido prima di ieri seppur sprovvista di Green Pass. Insieme a questa educatrice c'è anche il suo avvocato Luca Ventaloro, avvocato e coordinatore nazionale giuristi per la sanità, che parla di un chiaro esempio di cattiva interpretazione della legge da parte del dirigente scolastico. Marche Nord, l'azienda Marche Nord, parliamo ancora di sanità, nuovo primario, è in arrivo il neurologo Logullo, vinto il concorso dal dirigente di unità complessa, dunque da Macerata a Pesero, lascerà Macerata per venire a lavorare a Pesero, nel reparto di neurologia di Marche Nord. La pagina di Fano, pista Zengarini, persi 600 mila euro, l'accusa dei 5 Stelle e della Lega, esclusi dal bando perché il progetto non conforme. l'assessore Brunori dice verificherò. Poi in aula due associazioni, in aula al Tribunale di Pesero due associazioni e i genitori di quel ragazzo che ricorderete si era legato con il lucchetto al banco di scuola perché non voleva indossare la mascherina, quindi per protesta ci fu un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di questo studente che scatenò un putiferio di polemica anche a livello nazionale. Ci sono tre ricorsi adesso in Tribunale e se ne sta discutendo appunto in aula. Da Fano invece il Corriere Adriatico, una nuova casa popolare nell'ex scuola di Gimarra, cambio di destinazione, era per rinuncia al Manfrini, sarà Museo della Marineria. Poi Trasarti, il Vescovo di Fano che cita il Dalai Lama, scegli l'ottimismo, il Vescovo agli studenti, trovate la vostra strada, il futuro può essere felice. Avanza sessuale ad una minorenne in strada, questa è la cronaca dal Carlino di Ancona, un rappresentante di commercio adesso è finito a processo. La minore, questa ragazza di 17 anni, era sola il 9 giugno del 2020, l'anno scorso, mentre camminava in zona Coppo a Sirolo, sarebbe stata avvicinata da questo rappresentante che si trovava in auto. lui aveva abbassato il finestrino, questo 65enne, e si sarebbe sporto facendo le esplicite avance. Lei non lo aveva mai visto prima e quindi, spaventata, era corsa tra i campi, tagliando per i campi per seminarlo. Poi è stato rintrecciato e quant'altro. Ma sempre sulla cronaca di Ancona c'è questo caso, qui il giornale pubblica una storia, un fotogramma di un film famosissimo che è Pretty Woman, anche se qui il finale è un po' diverso. Il titolo salva una prostituta dalla strada, la sposa, ma ora è sotto accusa. La donna l'ha denunciato per maltrattamenti in famiglia, lui si difende, solo discussioni perché lei era tornata a fare la squillo. È un imputato di, imputato è un cinquantenne residente nel Senigalliese che quattro anni fa appunto ha sposato questa donna rumena di cinque anni più giovane. Lei era entrata in un giro di prostituzione e lui, innamorandosene, l'aveva portata via accogliendola in casa e per farle lasciare quel lavoro l'uomo le aveva dato una stabilità fino al punto di sposarla. Poi hanno avuto anche un figlio, poi però le cose sono andate male. Stando all'uomo la moglie aveva ripreso il giro e quindi era tornata a prostituirsi. Sparita per qualche giorno, il marito si è rivolto alle forze dell'ordine e quando l'ha denunciata per sottrazione di minore è arrivata la denuncia a lui per maltrattamento. Adesso la coppia non sta più insieme e ha avviato le pratiche per la separazione. Mio marito invece è fermo da nove ore in pronto soccorso, una vergogna, l'affondo dall'ospedale, soffre, sta passando ore infernali. Qui ci saranno 80 persone in attese. È la cronaca da Torrette di Ancona dove questo uomo si è infortunato al lavoro di mattina presto, è arrivato al pronto soccorso a Torrette poco dopo le 8. E questa donna racconta, siamo ancora qui, la situazione è drammatica, ci sono 70-80 persone tra pazienti e visitatori, la gente sta male ed è ammassata senza alcun distanziamento. Ora, non diamo certo la colpa ai infermieri e medici, ma è il sistema che non funziona. Ancora dai giornali, siamo a Senigallia. Minaccia di suicidarsi, salvato dai carabinieri, consegna documenti e un bigliettino ad un'amica e poi si dilegua, ha rintracciato il cellulare, gli uomini dell'arma hanno preso tempo per trovarlo. Problemi economici e personali lo avrebbe condotto al gesto. Poi è stato visitato anche dai medici. Addio all'attore Carlo Alighiero, la tua ostra ti ricorda con nostalgia. Ieri l'ultimo saluto a Roma e il sindaco della città natale Federica Fanesi scrive una lettera di commiato. Poi ingegnere in lutto e morto il pioniere Lanfranco Castelli. Ancora da Iesi invece la città abbraccia il suo campione Mancini, ora è ambasciatore di Iesi. Stasera al Palatricoli, la festa con 1300 persone, sarà esposta anche la Coppa vinta agli europei. E poi la campanella Iesi suona per 8 mila studenti. Dalla Valmetauro invece Proloco Forum Semproni, Diego Tramonti presidente. Con il 27enne architetto ci saranno due vicepresidenti, Gian Bartolomei e Frattini. Poi Brand Fano da esportare, si parte da Gandia, missione internazionale che è quella di rafforzare il posizionamento e quindi intercettare nuovi flussi turistici. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna. Vi ricordo che per quanto riguarda il viaggio apostolico di Papa Francesco, oggi trasmetteremo, questa mattina alle 9, alle 9.10, dal Santuario Nazionale di Sia Stin, un momento di preghiera con i Vescovi. Noi ci salutiamo qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alle 20.30 di questa sera con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.